Flexdoor, produzione e vendita materassi Dal 1979 la Flexdoor produce e vende materassi di ogni tipo e misura dal tradizionale al memory form, con reti, guanciali, trapunte, poltrone relax e tutti gli accessori per il riposo Nel nuovo showroom troverai inoltre divani, tappeti, letti, corredi, tessuti, tende per interno ed esterno, tappezzeria, complementi d'arredo e tende da sole Chiamaci per un preventivo o vieni a trovarci a Scala Torregrotta in via Industriale o a Rocca di Caprileone in via San Francesco